In questa seconda parte della tavola andremo a fare un altro motivo decorativo partendo però da una circonferenza divisa in sei parti e non in otto. Anche in questo caso vi faccio vedere come posso fare una divisione senza utilizzare il compasso però poi potete scegliere quella che voi preferite come metodologia non ha nessuna importanza è soltanto per farvi vedere qualche cosa di più. Come prima cosa giro la tavola sempre per sfruttare meglio la lunghezza della squadra e vado come prima cosa a tracciare l'asse verticale cosa che avremmo fatto comunque anche nella divisione con il compasso. Quindi posiziono la mia squadra sulla squadratura e vado a tracciare il diametro verticale. Ora lascio la squadra a 45 gradi o il righello posizionato sulla squadratura e sistemo la mia squadra in modo che abbia l'angolo di 90 gradi in basso a sinistra e l'angolo di 60 alla vostra destra. Faccio scorrere la squadra fino ad incontrare l'estremo superiore del diametro verticale che ho tracciato. Non vado a tracciare per intero la linea non mi interessa perché a me importa soltanto andare ad individuare questo punto. Ossia dove il mio ipotenusa della squadra va ad incontrare la circonferenza in questa maniera, in questo punto qui. Ora vado con la squadra o il righello a congiungere il punto che ho individuato con il centro della circonferenza. E vado a tracciare il diametro obliquo in questo modo. Devo fare la stessa cosa dall'altra parte, per cui posiziono sempre la squadra a 45 gradi sulla squadratura del foglio. Prendo la squadra 30-60, questa volta la posiziono in questo modo, ossia con l'angolo di 30 gradi posizionato alla vostra destra e l'angolo invece di 60 alla vostra sinistra. E come prima vado a far scorrere la squadra in questo modo, andando a posizionare questo lato della squadra sull'estremo superiore del diametro verticale. E vado ad individuare il punto in cui il lato incontra la circonferenza in questo modo, in questo punto. Come prima, adesso questo punto lo andrò a congiungere col centro e poi proseguirò andando a individuare l'estremo opposto del diametro. E ho tracciato i miei tre diametri che mi occorrono per eseguire il prossimo disegno. Ora, il prossimo passaggio richiede il compasso. Il compasso deve essere aperto a 2,5 cm, che è la metà del raggio della circonferenza. Ovviamente, se fosse più grande la circonferenza, dovreste sempre prendere comunque in considerazione la metà del raggio. In questo caso, il nostro raggio della circonferenza è 5 cm, quindi andremo a prendere 2,5 cm. Per prendere la misura, io vado a fare su un foglio qualsiasi una linea lunga 2,5 cm. Perché non sono certa di averla presa in modo corretto. Ecco qua. E adesso che l'ho disegnata, vado a prendere il compasso e lo allargo quanto la linea, in questo modo. Presa la misura, metto un cartoncino sotto il foglio e come prima cosa vado a tracciare una circonferenza concentrica alla prima. Quindi, la punta del compasso è al centro della mia circonferenza grande e vado a tracciare una circonferenza che ha come raggio esattamente la metà della prima. Per comodità, adesso andrò a dare dei numeri e delle lettere ai punti di intersezione. Per una questione unicamente di comodità mia, soprattutto per spiegarvi come devono essere posizionati le linee. Quindi, parto da 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi, dall'1, il corrispettivo qui dove la circonferenza più piccola va ad incontrare il diametro obliquo, lo vado a chiamare A, sul 2 vado a B, sul 3 vado a C, sul 4 vado a D, E ed F. Compasso, sempre 2,5 cm e punto il compasso in A. Per essere sicura di aver preso giusto le misure, controllo che, posizionando il compasso in A, io riesco a tracciare una circonferenza che passi dal centro e passi per il punto 1. Passa anche per il punto F e per il punto B. E ho tracciato la prima circonferenza, partendo da A. Vado su B, quindi sempre in ordine. Se ho fatto A, adesso faccio B, apertura del compasso uguale, e traccio un'altra circonferenza. A, B, C. Poi C, D, E, F. Il procedimento, come vedete, è sempre quello. Traccio 6 circonferenze, è scappato il compasso, 6 circonferenze, tutte della stessa misura, che è la metà del raggio. E io già così ho finito il mio disegno. Vado a prendere, ora vediamo come fare la colorazione. Eccola qua. Vado a prendere due colori, io riprendo quelli di prima, e vado a colorare questi petali interni di un colore. Poi, dello stesso colore, vado a colorare questi due petali, diciamo intermedi. Vado a prendere, ora vediamo come fare la colorazione. Quindi tutti questi andranno colorati lo stesso colore, e per ultimo utilizziamo, cambiamo colore, e andremo a colorare questi petali interni. Un consiglio, se volete fare un lavoro ben fatto, non comprate le matite colorate cancellabili, perché colorare con queste è una tragedia. Il colore non viene steso bene, bisogna calcare tantissimo per riuscire a fare un lavoro fatto decentemente, e vengono tutte le strisciate. Quindi, questo colore, e poi ovviamente il petalo più grande esterno. O meglio, io non mi trovo bene con queste, magari voi li trovate bene. O meglio, io non mi trovo bene. O meglio, io non mi trovo bene. ecco qua e andate avanti e ottenete come risultato finale questo specie di rosone e con questo concludiamo la seconda